Tutti i miei seri, alle casi nazionali, guardatele, con quali tutte mionde, more non ce ne sono più, alla prossima! E' un'altra, ma che bella! e si vengono gli occhi contro me la festa la tua traccia io lo sento e se me e io mi chiedo salutarti oggi e non metterò che non mi importa un pito lo mettiamo su Facebook Tiana ti metto su Facebook vieni qua vicino chiquito sabes tu il porqué perché mirando quel comando io mi tremisco si las do' un cuocito anche calita e altre so chiquito guarda qui e si bailando io ti incontro per la pista e lo ascoltai se io lo sento e tremerci e prefera salutarti oggi qui però perché non ti domino con compito stai facendo il filmino il cintito anche a casierate il cintito si bailando io ti incontro per la pista dai se io lo sento e se me e che la salut la fia un chiquito però perché non ti domino con compito eeeh che non ti domino con compito ma non ti domino con compito che non ti domino con compito non ti domino con compito Ilan!